buon pomeriggio buon pomeriggio in attesa che il pubblico si popoli oggi ho una grande sorpresa per voi siete pronti allora in attesa di intravedere il pubblico già potete scorgere qualcosa intorno a me oggi parliamo di hot couture e parlando di hot couture ho voluto abbinare oggi all'ospite che crea delle meravigliose creazioni per il nostro capo in abbinamento ad un luxury italian brand designer che io amo moltissimo che urban kimono eccoci qua buon pomeriggio oggi mi sento molto geisha oggi ancora il pubblico non è qui con noi ma a breve so già che saremo tanti allora vi dicevo oggi siamo in compagnia di un partenopeo doc e le sue creazioni penso che non le debba neanche descrivere quindi in attesa che appunto arrivi un po di gente essi popoli ho pensato di abbinare molto molto bene questo meraviglioso copricapo che è una sua creazione insieme a questa mia carissima amica di milano che fa queste meraviglie ragazzi sono dei kimono meravigliosi potete vedere è proprio un luxury brand e io credo che al mio ospite sarà piaciuto proprio l'abbinamento che ho fatto e siccome lo vedo qui in diretta ed è già arrivato presento rosso quindi carmine appena tu sei pronto buon pomeriggio pensiero verde appena tu sei pronto a darmi la richiesta di amicizia incominciamo a parlare di tutta questa meraviglia ciao benvenuto benvenuto benvenuta e lo so che ti ho stupito ma tu lo sai che io non sono mai impreparata quindi vieni qui con me così possiamo incominciare a raccontare qualcosa di meraviglioso che ti riguarda dicevo milano napoli collegato e con milano ovviamente oltre che me benvenuta adriana mi piace oggi il mio look oggi parliamo di hot couture e infatti invito il mio amico armine a venire qui con me a farmi compagnia mentre presentiamo questa meraviglia e vi racconto anche come ci siamo conosciuti beh è visto come io ho accolto a casa è fantastico cioè è bellissimo il kimono è abbinato benissimo guarda io sai quando si parla di hot couture o una cosa seria o niente o niente potevo abbinare una tua una tua creazione così che poi ne faremo vedere tantissime delle altre meraviglie che tu crei e guarda questo kimono è proprio una cosa meravigliosa cioè è proprio stile giapponese stasera poi pubblicherò e ci sta bene e lo trovo che si abbina meravigliosamente bene no poi hai visto la presentazione mancava solo la musichina dopo di che ero pronta dove facciamo la fotografia così poi montiamo assolutamente assolutamente allora io ti presentavo i miei follower intanto saluto tutti gli amici che si stanno collegando ciao mirco ciao driano ciao andy tra l'altro con andy puntata speciale domani make up e musica e quindi attenzione e quindi stavo dicendo che io ho conosciuto te e le tue magnifiche creazioni in occasione di un evento dove abbiamo partecipato entrambi a roma il centro di roma tra l'altro il palazzetto che è meraviglioso no per l'evento make up of tea al make up si e praticamente io esponevo i miei prodotti e c'erano tantissimi altri designer che esponevano di tutto no dalle collane agli abiti fino a quando a un certo punto in un angolo di questo palazzetto io scorbo qualcosa e qualcuno che incomincia a tirare fuori per me Alice in wonderland qualcosa di meraviglioso ed è lì che inizia questo rapporto a distanza quindi uniti ma distanti tra carmine e valeria e io ne sono felicissimo che tu sei qui però vorrei che appunto presentassi un po te stesso prima di entrare nel vivo delle tue creazioni al di là della nostra conoscenza come ti è nata questa meravigliosa idea che faccio vedere poi mi ricordo perfettamente il giorno in cui ci siamo conosciuti a roma in realtà perché ti ho visto passare più di una volta vicino al tavolo perché andare a prendere le tue cose insomma per il tuo per la tua esposizione quando ti ho visto ho detto ma è particolare ma allora guarda l'ho sempre detto tra i vari personaggi che sarei potuta essere perché per esempio lunedì sono stata in compagnia di una designer bravissima che è coriamenta che fa delle scarpe è meravigliosa lei è una transessuale e chiaramente ci siamo conosciute in un locale di milano e io indossavo proprio se ti ricorderai ti ho anche taggato in una delle serate scandalo proprio la tua meravigliosa creazione no e quindi dico se valeria non fosse stata valeria orlando donna sarebbe stato ho una trans per la capacità proprio estrionica perché adoro se fosse stato un personaggio dello spettacolo e la salutiamo con affetto in alto dai cieli sarei stata marina ripa di neana perché cioè io indossare le tue meraviglie in giro per milano ovunque io sia tra l'altro già aspettati che nel mese di maggio uscirà la cover di 33 magazine dove ho portato questa meraviglia in domenica ha visto le storie ho visto le tue storie ti seguo ci siamo quasi siamo per uscire ci siamo quasi volentieri aspetteremo aspetteremo raccontaci un po e tutto parte già da qualche anno e valeria cioè nel senso che sono stati delle capsule no per alcune sfilate poi era finita lì cioè nel senso l'idea di fare questi accessori era un po finita improvvisamente arrivano insomma un po di festa napoli incominciano varie feste a tema e delle persone che già mi conoscevano sono venute a bussare alla mia porta e quindi qualcuno ha incominciato a fare uno schizzetto così vorrei mi piacerebbe e io ho incominciato a mettere su insomma la creatività cioè nel senso quindi aveva uno sfogo immediato no con la festa a tema cioè sia una tematica la frutta l'estate il mare insomma qualsiasi cosa per te diventa un'ispirazione ma ovviamente ecco io chiaramente che sarei una primavera botticelliana per quanto sono innamorata del rinascimento ti ricordi che proprio l'avevo puntato sì tu eri passata l'avevi visto hai detto questo sarà mio io ho detto ah boh chissà ti ricordi che tra l'altro hanno fatto tantissimi scatti a me durante quella serata ad opera della nostra amica fotografa che in questo momento gina 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 de bellis a cui mandiamo tanti bacio ovviamente perché mi ha fatto proprio un servizio fotografico in quella serata lì ma prima di iniziare quindi con queste creature perché non le possiamo chiamare creazioni ma creature perché poi ognuna di loro ce le racconterai si prende chiaramente vita e forma come abbiamo detto dalle tante ispirazioni che la natura ovviamente ti offre ma carmine quindi che scursus ha prima di questo prima di questi tre anni cosa di cosa si occupa per non credo che nasci così tac no non sono nato tac ma una creatività che era già il tempo ma già presente con un'attività di florovivaistiche insomma quindi lo vedi di fiori e da qui molte delle mie creazioni hanno a che fare proprio con i fiori e mi piacciono alcuni fiori artificiali perché oggi la qualità è migliorata e quindi mi diverte che un accessorio possa resistere un po di più rispetto al fiore fresco che invece poi la durata come dire è limitata e quindi mi diverte tanto poi è meraviglioso anche perché ecco io adesso questo non ve lo posso cioè al di là di farvelo vedere che spettacolo complimenti all'artista jessica infatti l'artista in linea con noi lo potete continuare a seguire e siccome appunto ancora prima del copit ma maggior ragione adesso ragazzi parliamo del made in italy e io nel mio spazio cerco di dare visibilità ai tanti artisti che ho conosciuto nella mia vita perché il made in italy ragazzi è il made in italy quindi se siete appassionati come me e non solo per carnevale voglio dire non è per una festa a tema ma avete lo spirito giusto e quindi per un'occasione speciale volete fare veramente la differenza contattate in direct message carmine per cui già l'ho pubblicizzato quindi rosso carminio creazioni perché voglio dire facciamo il caso no carmine che per esempio ci sia un matrimonio a tema sai che voglio dire ci sono tante di queste situazioni possiamo dire ai follower che mi seguono ecco brava cercalo possiamo dire ai follower che mi seguono se oltre alle creazioni che già tu hai fatto anche on demand tu riesci a realizzare delle cose giusto sì 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 su richiesta l'importante è capire bene il tema della festa o del matrimonio l'evento che sia l'abito perché ovviamente come vedi è abbinato no all'abito quindi all'outfit insomma che uno indossa e allora il colore dell'abito è fondamentale ed è lì io incomincio a creare però poi uno deve affidarsi cioè nel senso la cosa più importante che se tu fai riferimento ad un artigiano creativo ti devi comunque affidare perché altrimenti se incominci a dire lo vorrei però troppo così un po troppo colì eccetera il creativo incomincia un po a non creare più allora a eseguire e quindi eseguire e cioè non va bene cioè no no allora infatti facciamo la differenza non perché voglio dire sia denigrante quello che sto per dire ma è chiaro che quando parliamo di old couture quando parliamo di alta sartoria quindi nell'abbinamento di questo kimono come dicevo della mia amica urban kimono che è meraviglioso che è un altro design italiana un'ex modella che fa delle cose meravigliose ho avuto il piacere di seguirla proprio durante questa ultima milano fashion week ciao aldo aldo fammi una foto aldo da lontano scatto una foto che poi la pubblichiamo è di me di carmine mi raccomando e dicevo è chiaro che si possono avere degli ornamenti un po diciamo anche più economici ma bisogna sempre vedere quello che uno vuole quindi se io vado in un negozio e trovo già qualcosa di costruito già di fatto e anche in serie è chiaro che non posso avere un'offerta che sia proprio quello che io desidero quindi il consiglio qual è andate da un artigiano dove sulla vostra ispirazione lo lasciate creare ma lasciatelo creare perché l'idea dare delle disposizioni perché è giusto che io vado a trovare poi la soluzione adatta alla persona come un abito su misura è uguale la stessa identica perché quando tu lo indossi lo devi sentire tuo tutt'uno con la tua persona perché lo devi portare con disinvoltura ed è quello che tu fai nei momenti in cui hai scelto questo accessorio questa creazione ma sentire in testa hai detto questo esatto che ti calzava bene cioè devi sapere che quando io parto anche quando sono partita in armenia siccome non voleva assolutissimamente che si rovinasse no quindi sono partita proprio come si partiva negli anni venti con una cappelliera meravigliosa dove io ormai ho inserito le tue creazioni in maniera tale che per nessuna maniera si possano rovinare e infatti a questo proposito farei vedere ai nostri amici intanto benvenuto ciumbo benvenuto lorenzo come stai amore da quanto tempo non ci vediamo benvenuto giuseppe farei vedere proprio la foto che ci ritrae insieme nel momento in cui ci siamo conosciuti esatto a roma facciamo vedere questa foto eccoci che è stato proprio aspetta inverto aspetta aspetta ecco qua inverto in maniera tale che ci vediamo tutti e due ecco questa è la foto dove io indossavo non questo ma un'altra delle tante creazioni che ho provato poi alla fine ho scelto per questo perché mi piaceva proprio questa forma da bersagliere no in questa caduta volute meravigliosa e quindi questo è stato proprio il momento in cui ci siamo incontrati e la foto è eccezionale che ha ritratto proprio quel momento insomma dove siamo tutti e due e questa è stata proprio l'opera della gina della gina che in quel momento ci ha preso tutte e due e ci ha colto in questo momento insieme ora però le sorprese non finiscono qui perché io ovviamente voglio fare vedere delle cose che ho preso dal tuo instagram e poi indosserò un'altra creazione che io fortemente ho voluto e se ti ricordi c'era una signora che girava intorno a quell'altra e io ero lì tipo falco perché lavoravo non avevo avuto il tempo ancora di prenderlo e poi si mettevelo da parte sì è vero è vero è vero allora io infatti comincerei nel fare vedere questa meraviglia ok parlami un po' di questa meraviglia nel frattempo vediamo cosa scrive il nostro pubblico vediamo ti dico carmine hai trovato una soluzione creativa e super colorata a queste orrende mascherine che saremo costretti a indossare per un po' eh ci ho pensato ma in realtà siccome comunque insomma bisogna avere devono essere a norma quindi mettere anche dei fiori delle applicazioni comunque poi andrebbero lavati il lavatrice scusa e cercossero delle copri mascherine il copri mascherina ci ho pensato guarda te ne faccio vedere dopo uno no adesso dai perché tanto ne stiamo parlando però in realtà un prototipo perché ovviamente voleva essere un'idea di come poter realizzare con la tasca interna dove poter mettere poi un filtro la carta famosa carta da forno un cello fanno insomma così e questo poi diventava come dire una mascherina o quantomeno anche un copri mascherina avendo una tasca larga all'interno quindi l'idea c'è poi si passa come dire alla lavorazione perché bisogna un attimo capire eh la fattoria e allora tutti chiaramente mi raccomando amici che avete il piacere di partecipare vi ringrazio alle mie dirette dalle 18 alle 19 mi raccomando incominciate a seguire rosso perché probabilmente a breve ci farà qualche sorpresa ci vediamo continua pazzesco sono curiosissima diamo un po di curiosità dai che siamo contenti allora parlavamo di questa creatura d'oro questa creatura d'oro nasce tra le prime e in realtà diventato il mio classico e la chiamo giulio cesare e perché ricorda proprio la corona di alloro no degli imperatori e ce n'ho sempre un prototipo con me questo è quello con la fascia larga e quindi dove le foglie sono un po più larghe l'idea questa cioè che tu la metti così e vai alla tua festa che sia di compleanno che sia anche una festa di laurea non fa forza deve essere la classica coroncina di alloro vista e rivista tanto non sarà quella a portare fortuna nella propria vita però l'idea di poter indossare una cosa particolare geniale c'è quindi questa è l'idea geniale geniale e poi tu hai un viso splendido per portare le tue creazioni quindi me le faccio su misura però mi veniva anche in mente che per ora stiamo parlando del cliente finale che va ad una festa che va chiaramente però voglio dire milano napoli siamo collegati molto probabilmente ci sono anche delle produzioni fotografiche che non ti conoscono e io spero che grazie a questo momento sempre give love first milano napoli collegato continuate a seguire rosso perché rosso è disponibile anche chiaramente per i set editoriali di moda che sono molto carini sono molto interessanti perché ti danno la possibilità ecco con una modella il trucco perché io noto le fotografie fatte insomma con appunto degli studi fotografici dove c'è appunto il visaggista l'abito giusto le fotografie rendono molto di più quindi le mie creazioni prendono una vitalità una cosa che le posso indossare io oppure che tu le vedi come nella fotografia ma una volta che le indossi tu vedi truccata con l'abito giusto queste creazioni ovviamente insomma prendono per me vita quindi assolutamente 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 quindi questa per esempio questa idea si può fare di tutto quindi poi puoi sceglierlo per colore per forma mediamente dal momento in cui rosso qualcuno ordina qualcosa no quindi dal momento in cui ti viene commissionato in che tempi tu riesci poi a consegnare queste meraviglie bisogna vedere innanzitutto se il materiale ce l'ho a disposizione perché magari non ho il fogliano la piuma o il fiore a disposizione nel momento in cui lo lavoro quindi poi la spedizione quattro cinque giorni massimo lavorativi quindi una settimana dipende una settimana dieci giorni per essere tranquilli con la spedizione questo è il senso però tanto io so perfettamente che la festa ce l'ho magari il mese prossimo e quindi posso organizzarmi per fare una cosa su misura insomma benissimo così almeno sai abbiamo dato un po' di informazioni vedi il mio pubblico praticamente è cioè è impazzito bravissimo saluto ma io non avevo dubbi perché quando si parla di un personaggio come te tu hai avuto occhio a roma nel momento dietro quel giorno in quei giorni io avevo un piccolo spazio non ero riuscito a prendere lo spazio più grande che solitamente prendo lì al make up quindi mi hai trovato in un giorno in un posto costipato piccolo non avevo tutte le creazioni e tu hai avuto occhio raffaele guarda adesso si è collegato un un mio collega bravissimo di roma raffaele non so se conoscevi rosso ma ecco cioè guarda guarda che meraviglie fa rosso e in questo momento ne sto facendo vedere una indosso a me ne stiamo facendo vedere una delle tante creazioni anche da un punto di vista fotografico ma a breve vi farò vedere anche altro ecco un altro artista a paolo benvenuto paolo lui invece proprio si occupa di arte contemporanea ma siamo comunque sempre nel mondo degli artisti e quindi allora tra l'altro nel momento in cui tu dici questo come vedi il mio compagno scrive valeri per fare scouting e devi sapere che questo per lui è un'arma a doppio taglio perché se mi porta da qualche parte ed entriamo anche capito in un posto dove non c'è nulla di bello io riesco a scovare l'unica cosa bella hai detto un mio senso innato che mi appartiene e 30 anni tra l'altro di questo lavoro è chiaro che fa la differenza non è la capacità lavorando non solo con il preta portè ma lavorando a parigi con l'haut couture di allenare l'occhio a quello che è la meraviglia vedi stupende le voglio per un servizio raffaele contatta rosso in direct message perché lo scopo chiaramente è quello di unirci noi creativi italiani e intanto benvenute benvenuta silvia benvenuta a five minute benvenuti daniela daniela benvenuta daniela benvenuta allora io passerei ad un altro che voglio dire così così lo facciamo vedere così così ragazzi hai preso quello piccolo insomma un tribunio dimmi che ce l'hai anche visi mamma mia sono tra gli ultimi che ho fatto proprio in questo periodo di quarantena si vede mamma che meraviglia allora qui stiamo parlando invece che di fiori e di bambini stiamo parlando di piume sì perché ho incominciato a lavorare specie da quest'anno con le piume ed è molto divertente perché l'effetto che crea poi insomma la leggerezza rispetto al fiore che per alcune può essere un po pesante quindi l'idea che con le piume questi possono essere in tanti colori in tanti formati quindi hai voglia valeria cioè hai voglia ovviamente sai che per la primavera estate per le mie serate perché voglio dire questo covid prima o poi lanciamo questo messaggio ragazzi passerà passerà e quindi io devo preparare per la mia primavera estate delle serie di piume dal rosa al glici dal lilla lo sai bene che ti farò tante richieste aspetto con volentieri valeria guarda credimi a volte si incontrano delle persone nel proprio percorso di vita anche per caso perché lì a roma quando va insomma nei pop up non sai chi incontri non sai che persone ti arrivano eccetera quindi quando ti arriva quella persona che fosse anche solo una che quella persona che dà uno stimolo no c'è ti dà quel sale a fare delle cose in più particolari credimi ben venga anche soltanto una persona allora adesso sono massimamente felice perché in questo momento si è collegata anche anastasia un saluto a mia diatrice di questo meraviglioso kimono è bellissimo il kimono è bellissimo anastasia ecco urban kimono official ragazzi seguite urban kimono official altro prodotto made in italy meraviglioso in tutti i colori contattate anastasia anastasia ti voglio bene anastasia io adoro la tua collezione guarda guarda faccio vedere se sono anche da uomo immagino l'arte l'arte preziosa ma tu amore sei bella io cioè andate a vedere quando anastasia indossa i suoi kimono cioè io sono una robina in confronto ciao angelo guarda preparati angelo perché per la nostra puntata potrei anche consigliati qualcosa di rosso angelo è un altro creativo e ovviamente anche lui ha una sua linea di abbigliamento che sta andando fortissimo che i esal di angelo cruciani e quindi angelo quando ti serviranno accessori e allora nel frattempo anastasia dice da uomini ancora no però presto va bene va bene quindi anche questo è un messaggio lanciato io visto che c'è anastasia devo fare assolutamente vedere questa meravigliosa manica molto bello molto bello devo fare vedere proprio che cos'è visto anche da vicino il tessuto tutto ma poi tra l'altro con anastasia già ce lo siamo dette visto che io continuerò con il mio word talking perché poi ci ho preso anche gusto ti devo dire è divertente mi dicono che sono una brava padrona di casa e quindi mi hai fatto uscire di casa Valeria virtualmente ma tu mi hai fatto uscire di casa hai capito vuoi mettere in questo momento ma è che lì siamo tutti qui allora c'è qualcuno che ti saluta ciao mia mia fa delle camicie bellissime credimi mia da vedere insomma sul suo come di instagram allora mia mi raccomando siccome instagram ha un problema che anche se vedo scorrere le persone qui se poi non rimaniamo connessi e siamo tanti di solito nelle mie dirette per favore mandami un direct message o seguiamoci così poi potrò ammirare le tue creazioni sì 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 e poi è una bellissima donna come te quindi quando trovi una bellissima donna che anche dolce che anche insomma che a quella cosa cioè quel quel sale in più credimi è bellissimo vedi pensiero verde dice che siamo un eccellente binomio perché infatti dico sempre che le cose come dicevi tu non è che avvengono a caso non avvengono a caso no e quindi secondo me in quella giornata che poi tu non sei arrivato subito sei arrivato dopo sì e stavi cercando uno spazio quindi la mia attenzione è stata ancora massimale perché già tutti siano sistemati e tu hai tirato come dal cilindro le meraviglie io infazzita è vero ricordo proprio l'attimo insomma i tuoi occhi così che toccavi e non sapevi e voglio dire poi io sono una trasparente quindi cioè se una cosa mi piace mi piace se una cosa non mi piace non mi piace e quello che devo dire lo dico sempre lo sai con la massima trasparenza è vero bene quindi abbiamo fatto vedere prima una meravigliosa diciamo creazione con foglie d'alloro che potrebbe essere appunto una valida alternativa per una laurea per una festa di laurea quindi senza la corona di alloro classica ci siamo passate alle piume quindi abbiamo visto le piume questo qui meraviglioso ora ragazzi anche col nero sfondo sarebbe stato perfetta la prossima creazione col nero sì però ho abbinato insomma vedi un neutro senz'altro io ti aspetto quindi abbiamo sempre una linea come tipo cappellino così ma con la piuma che a me divertono tanto queste piume insomma molto leggere e anche questa ha una sensazione dalla sensazione di un cappellino ok con tutte le piume e ovviamente gli uccellini siamo in primavera con dei colori un po particolari no questo tania che adesso è tanto anche di moda che si porta molto bene poi vedi l'ho abbinato anche agli occhi insomma meraviglioso meraviglioso anche questo nel frattempo allora io ho visto che c'è già un bel po' di pubblico e magari i tuoi follower non sanno la particolarità che perché così non si vedono i miei capelli mentre i miei follower sanno che colore ho di capelli i tuoi non lo sanno no possiamo rivedere allora svegliamo questo mistero mentre cambio ho la vedete vedete qual è stato l'amore a prima vista tra me e carmine come facevo a due notarti al make up a Roma come facevo e infatti e infatti ecco qui un altro amore della mia vita sì perché era proprio giusto il colore perfetto con i capelli cioè tutt'uno sembrava fatta proprio di proposito c'è capito non era studiato quindi è una delle mie creazioni che avevo già pronte ed era perfetto con i tuoi capelli meraviglioso cioè proprio questa sensazione di vedere appunto il cerchietto poi vabbè io col mio viola quindi poi col capello puoi tenerlo sciolto puoi tenerlo sciolto ovviamente però questo ragazzi anche con una canottiera proprio semplicissima una tunica estiva leggerissima cioè avete già fatto tutto perché con un accessorio così sì hai fatto puoi andare all'aperitivo ad una serata una presentazione cioè puoi uscire e divertirti innanzitutto perché quando lo indossi ti senti bene ti senti divertita divertente per gli altri e via ed è un sorriso quello che vogliamo lanciare insomma guardate ve lo faccio vedere bene perché la particolarità io vorrei perché chiaramente i nostri amici non sanno che queste foglie perché sono delle foglie così sono proprio cos'è un velluto è una fuma espansa in realtà quindi è anche modellabile perché ha appunto e infatti voi lo potete aprire chiudere sì meraviglioso guarda io in tuo onore guarda quanti viola toni di viola di fucsia che avevo inserito nel mio make up di oggi molto bello poi ovviamente adesso è perfetto con questi colori adesso proprio ciao perfetto ora possiamo uscire adesso non possiamo uscire stiamo ancora ancora no ecco adesso è venuta un'altra mia amica che è una specialista di skin care Chiara io lo so tu non hai visto l'altro cappello ma avresti dovuto vedere la prima creazione che ho messo guarda te lo faccio vedere soltanto a distanza prima avevo questo che è qualcosa di meraviglioso e nel frattempo stiamo presentando le creature io dico sempre che non sono creazioni ma le creature perché poi sei legato perché quando le crei comunque ci metti del tempo insomma le lavori insomma quindi diventano delle vere e proprie creature assolutamente e andiamo alla prossima che ovviamente io quando ho visto questa immagine sul tuo profilo instagram ho detto no vabbè questo è un altro di quelli che mi aspetta anche perché ci sono proprio sia i miei colori e poi c'è già questo blu che è il pantone dell'anno ah ecco adesso ho capito aspetta mamma mia Carmine questo è piaciuto tantissimo perché poi anche instagram ti dà come dire anche un riscontro no con le persone con i tuoi seguaci i tuoi follower e dai like capisci insomma se piace di più piace di meno insomma quindi ti fai anche un'idea te lo mostro eh per forza che fai non me lo vuoi fare vedere no babà questo qui una piccola cosa Valeria c'è capito una cosina un aperitivo a Milano e lei fa uscire così con questi vedi ma tu lo sai che per me durante la Milano Fashion Week quando mi invitano alle feste il personaggio si presta perfettamente ormai lo sai cioè ormai quando mi arrivo poi è conoscente vedi cioè si muove insomma si aspettano poi da te un qualcosa di particolare questa è l'idea perché conoscendo la persona che poi diventa tra virgolette personaggio tu ti aspetti che questa persona possa avvenire ad una serata ad una situazione un evento in una maniera un po' particolare ma non per essere come dire il l'elemento no stupidino no ma va vedi cosa ti scrivo non mi ricorda Maria Antonietta di Sofia Coppola cioè allora qui abbiamo un pubblico che mi segue che comunque chiaramente è un pubblico di artisti quindi non possono minimamente ipotizzare che stiamo parlando di roba così ecco no ok siamo contenti assolutissimamente cioè meraviglioso questo è proprio un tripudio di farfalle sì ma questo l'avevo in mente già da tempo però non era arrivato ancora il momento di poterlo fare cioè sai quando hai delle idee che le metti lì nel cantiere eccetera stando qui a casa ho detto forse adesso è arrivato il momento di crearlo e quindi è venuto fuori proprio durante la quarantena cioè l'idea di una primavera che non posso vedere in questo momento che è fuori ma io sto dentro e l'ho amato di creata io bravo infatti vedi cosa scrive Mia questa è la felicità perché tu grazie al tuo lavoro a noi donne ci fai vivere proprio questa primavera che ancora stiamo aspettando perché non possiamo ancora manifestarci in tutta la nostra gioia in tutta la nostra energia femminile nei colori perché ovviamente la donna può indossare tanti colori quindi è divertente poter abbinare vedi un accessorio ad un ambito ad una camicia insomma quindi l'accessorio di questa tipologia per una serata ovviamente non è che vai a fare la spesa così diciamo di no diciamo di no diciamo proprio di no però veramente meraviglioso meraviglioso e poi praticamente al di là che abbiamo fatto vedere questo riquadro che era la mascherina che stavi preparando c'è qualcosa c'è qualcosa nell'aria su cosa stai lavorando che mi hai mandato queste piuze e tra l'altro è una piccola sorpresa no? perché io anteprima perché ancora non ho fatto uscire fotografie perché l'ho lavorato l'ho completato e l'ho messo lì perché mi sono reso conto che è venuto un po' invernale come colori allora ho detto ok teniamolo un attimo in stand-by però non potevo non mostrartelo perché tu sai che adesso tu sai che adesso rischi del farmelo vedere vero? io penso che sì perché mi sono reso conto che poi l'animalier piace alle donne cioè allora guarda c'è una delle mie ragazze Monica Buccuni top top lei impazzisce per tutto ciò che animali è la stampa e quindi mi rendo conto che questo genere può piacere c'è nel senso che può piacere ora te lo mostro poi dopo vediamo quello con le piume rose è una piccola cosa piccolina oh mio Dio dai dimmi così cosa ne pensi mamma allora guarda la prima cosa appena l'hai messo ho immaginato credimi Vanda Osiris quando scendeva dalla scalinata nel suo tripudio proprio e le folie berger non so come dirti è quel mondo lì sì è il mondo sì un po' anche parigino De Lido Moulin Rouge oh mio Dio queste piume così insomma sono bellissime pensa che comunque tante di queste creazioni cioè tu puoi cambiare il tessuto puoi cambiare vedi insomma e farne diverse quindi l'idea anche di queste creazioni che comunque uguali non la farò mai o quantomeno similare diciamolo in ogni caso essendo a lavorarli sono creazioni creature ecco perché le chiamo creature guarda chi c'è guarda chi c'è Ilaria guarda che ti presento guarda cosa cosa ti presento ecco lei per esempio è una stylist star director di Roma che non ti conosce lo devi seguire Ilaria devi seguire questo ragazzo per cui Napoli Roma Milano facciamo delle soste ce ne andiamo in giro per l'Italia voglio dire facciamo un shooting meraviglioso perché andare a cercare altrove quando poi in Italia possiamo avvalerci di tante competenze l'artigiano l'artista il designer veramente possiamo lavorare stando in casa inteso casa Italia e quindi possiamo e tra l'altro diciamolo mentre e questo voglio dire penso che per tutti sia chiaro anche quando parliamo di made in Italy facciamo attenzione al nostro made in Italy allora esiste un made in Italy che se lo volete va prima pagato innanzitutto nel senso che comunque tutto ciò che è artigianale e diventa qualcosa di vostro per tutta la vita perché non si rovinerà mai perché la qualità dei tessuti tutto quello che viene utilizzato è diverso da quello che è un made in Italy che viene poi invece fatto fabbricare in Turchia e sappiamo bene che questa situazione appartiene a moltissimi brand ormai famosi famosissimi che non producono più in Italia quindi attenzione da quello che è un capo di abbigliamento a quello che è un accessorio a quello che è una borsa il pellame delle marche ragazzi il pellame delle marche ma ne vogliamo parlare la morbidezza delle scarpe e la bellezza delle borse prodotte nelle marche dai ma di che cosa parliamo abbiamo tanto abbiamo tanto in Italia però ovviamente come dici tu bisogna anche saperlo bisogna pagarlo il giusto perché ovviamente lavorare a mano lavorare da solo cioè non avere una catena di montaggio eccetera e ovviamente fa sì che dei costi siano anche un po' più alti guarda spogli una volta aperta io ti capisco perfettamente perché io produco make up e produco make up italiano e tu hai visto la qualità del mio prodotto e le mie clienti quando mi scrivono e mi mandano messaggi e scrivono io non ti lascerò mai perché al di là di essere simpatica carina una persona che comunque la qualità dei prodotti la qualità del prodotto ma poi vuoi mettere il fatto che io attualmente proprio essendo un brand di nicchia io amo come ami tu avere il contatto con la tua cliente anche io quindi la possibilità che l'artigiano il designer che crea in ogni campo in Italia la sua collezione e tu hai l'opportunità di poter lavorare direttamente con lui o con lei tu trovi soddisfazione nel farlo perché quando ti vedevo anche a Roma cioè metti una gioia nel farlo e quindi la trasmetti che qualsiasi cosa ci metti in faccia in quel momento alla signora è contenta perché tu hai messo le mani su di lei e quindi perché si è affidata a te e quindi perché ha fiducia in te insomma nelle cose che fai buonasera Ciro e quindi di conseguenza uno si affida è così e che uno deve fare anche con i creativi lasciarli poi creare e via è infatti è infatti adesso mi vede così capito sono un po' io per gli amici che si sono collegati adesso dopo aver fatto vedere questa meraviglia rimetterei anche per colori la prima meraviglia perché chi non l'ha vista la deve vedere è bella è bella questi cancetti servono poi per legarlo là dietro è così una volta che lo leghi dietro il copricapo resta bello insomma stabile e fisso ecco qua amici questo è un elastichino con cui così lo legate dietro ecco qua e diventa tutto eccole possiamo uscire stasera siamo pronti siamo pronti tanto le forze dell'ordine sono intente a fare altro quindi noi abbiamo passiamo inosservati passiamo inosservati inosservati assolutamente inosservati e allora dicevamo che però oltre a questo cappellino quando ho messo questa foto con queste piume questi colori glicini tu mi stavi per presentare qualcosa un'altra linea mia ti aspettiamo andiamo tutti a fare un aperitivo partiamo da Napoli e andiamo e ora questa è un'altra creazione sempre insomma con le piume vedi che mi sto facendo diversi in questo momento che mi piaceva molto l'oro abbinato a questo colore un po' di rosa di gliscine e creare insomma un'altra creazione come vedi poi sono sempre un po' diverse tra di loro cioè a seconda poi del materiale o della piume o dei fiori sono tutte diverse e ti vengono in maniera Valeria naturale cioè questo non ha idea nella mia mente cosa sta scatenando a livello di colori perché è bello così cioè la quarantena se posso dire una piccola cosa guarda cioè io sto adesso facendo la nuova collezione dei blush e vedendo quella magnificenza già sto immaginando un viso quasi cerato con questi bombin così ciao è perfetto ciao cioè l'idea è che in questo momento sto dando anche un po' di sfogo ad una creatività ancora di più un po' più particolare perché dico tanto le sto creando in questo momento per me allora a fare quello piccolo lo faccio lo creo perché è quello che poi magari è più mettibile ok guarda ti sto per portare scusa che ti interrompo lo vedi l'ultimo bacio mio figlio dalla Florida quindi si collega anche il mondo americano che sai bene che voglio dire a Hollywood apprezzerebbero sì questo fa un po' Liz Taylor no? eh sì mi sembra insomma che avesse un'acconciatura di questo genere così quindi come vedi sono sempre un po' diverse particolari spero che piacciono insomma poi allora devi togliere lo spero perché solo dai commenti voglio dire e delle persone che si sono collegate non avere neanche un dubbio io peraltro guarda prima che tu ti collegassi sì ho fatto uno scatto di me e guarda tac guarda c'è proprio un tripudio sia di qua che di là anch'io me lo sono fatto prima che poi pubblico in attesa tua perché io poi stavo vedi con la tazza così e ho detto eh mi ho fatto una poi dopo lo pubblico che ti taggo così insomma vedrai la mia attesa no? ecco allora la persona che si collega hi Sofia è la modella che è stata in Armenia con questa tua creatura meravigliosa sì sì ho visto visto le storie vedi sei seguita il bello è questo cioè che poi persone nel tuo caso appunto la modella nel mio caso mia è divertente trovare delle persone che poi ti seguono cioè nel senso che ti danno come dire quello stimolo a poter continuare a parlare dei lavori che fai insomma e quindi ad avere sempre più fiducia in un momento come questo dove la fiducia insomma ne abbiamo bisogno I'm very well and you my friend I love Armenia Armenia Italy sì allora ti devo dire che io praticamente le persone che mi conoscono lo sanno io farei amicizia anche con il San Pietrino parlo al San Pietrino e prima o poi lui mi risponde perché non può non può e poi sta capitando questa cosa meravigliosa è vero noi creativi in questo momento stiamo riuscendo almeno io parlo per me parlo per me brava mia condivisione condivisione io ho voluto creare questo spazio proprio non solo per avere io un momento per parlare con le persone che ovviamente sono a distanza perché avendo 30 anni di esperienza in tutto il mondo ogni tanto mi si collega il Giappone l'Asia l'America e quindi per me questa connessione diventa come io immagino come un'antenna broadcast dell'energia positiva seguendo anche il filone di tanti artisti da giovanotti nella musica voglio dire a tanti artisti Paolo Queglio nella letteratura Stefano è bravissimo è un air style di Venezia devi conoscerlo un bacio a Stefano ciao Stefano benvenuto tu sei un magnifico air style io sono una fantastica makeup artist titolare di una magnifica collezione di makeup ci dobbiamo conoscere per forza penso di sì dai magari vedi possono aiutare queste situazioni mettersi in collegamento delle persone che non si conoscono come tanti non mi conoscono ed è comunque un sistema anche tramite una chiacchierata simpatica come questa assolutamente e aggiungo con una particolarità se me lo permetti che mentre ovviamente quando noi troviamo un prodotto che ci dicono essere tal prodotto questo e quell'altro ma non vediamo la persona che c'è dietro ciao Stefano non puoi immaginare quello che c'è invece in un momento di convivialità così in un'oretta dove tu spieghi oltre alla condivisione tu capisci chi c'è davanti cioè non è un video o un post che tu dici una fotografia fatta bene sei viva sei viva e quindi arrivi alle persone io ti dico in queste ultime quattro settimane dove praticamente si sono succeduti i vari ospiti dove io mi diverto anche a variare quindi passo veramente dall'arte contemporanea al make up tu poi mi segui lo sai domani parliamo di musica sabato invece un momento dedicato a tutte le donne che mi hanno chiesto che vogliono sapere come si porta l'eyeliner e chiaramente l'eyeliner tu mi dirai chiaro in un momento in cui probabilmente cioè sicuramente usciremo con una mascherina il make up sarà qua e io non posso abbandonare le mie donne le mie donne dovranno sapersi fare un eyeliner perfetto e quindi Valeria arriva Valeria arriva ovunque cioè nel senso l'idea ovviamente no vedi adesso dalle storie così di far conoscere però è questo che uno può chiedere a Valeria un consiglio per un trucco insomma un trucco particolare eccetera e Valeria dalla risposta cioè non è che devi mandare un'email ad un'azienda chissà se ti rispondono eccetera e questa è la nostra idea quello del piccolo creativo artigiano che comunque riesce ad avere un contatto diretto con la propria clientela riuscendo perché nel piccolo riesce a mantenere una qualità altissima io sto lavorando affinché anche nella crescita possa mantenere una qualità altissima certo e ti aggiungo una cosa se ti ricorderai quando noi ci siamo conosciuti io avevo questi miei magnifici base occhiali no ti ricordi che erano i miei fondotinta che sono i miei fondotinta quando te li ho presentati lì ancora non avevo creato questa formula meravigliosa che ho adesso dove c'è una novità che tu apprezzerai tantissimo e sai qual è? che ho eliminato un'altra parte di cui volevo proprio fare fuori all'interno del mio fondotinta in una lista incinobile causa covid ancora non l'abbiamo potuto pubblicizzare ma questo prodotto potrà essere utilizzato da tutte le donne che stanno facendo radio e chemioterapia tutte le pazienti oncologiche che normalmente non si possono truccare potranno utilizzare questo fondotinta e questa è la mia massima gioia cioè non solo le donne che amano stare bene con se stesse ma le donne che in questo momento hanno una malattia è giusto Valeria è giusto perché io sto lavorando in quella direzione sì perché credo che in qualsiasi momento anche di sofferenza eccetera avere un un tocco no? e un'attenzione alla propria persona nella cura di se stessi è importante proprio ad andare avanti ti dà la forza a dire ok io devo andare avanti e quindi anche questo insomma che può sembrare magari per molti un'idea no? ti posso dire che in questo momento vuoi anche per il fatto che chiaramente stando tutti a casa documentandoci su quello che sta accadendo chiunque dai virologi agli scienziati a tutte le persone che cercano ciao Massimo benvenuto ecco Massimo è un altro fotografo di Roma che apprezzerà moltissimo perché io lavoro con lui lui lavora tra Los Angeles e Roma quindi tieni d'occhio quest'artista Massimo per i nostri progetti americani ti dicevo documentandosi sanno ormai che mentre per noi è naturale che l'energia positiva ci faccia stare bene sì per altre persone invece hanno scoperto da chi ha una malattia a chi in questo momento sta vivendo un momento di ansia di stress che stare positivi quindi connettersi con la positività la gioia nel cuore vedersi un film divertente mettere la musica aiuta ah già lo tengo dopo lo vedi lo vedi hai capito hai capito quindi anche questo è veramente molto importante prendetevi ogni tanto anche un po' in giro anche in casa io lo dico l'altro giorno è bello intervistato per Vanity Fair e indossavo tra l'altro il kimono di Anastasia e me l'ho fatto questa magnifica foto dove quando abbiamo iniziato la quarantena è io sono Milano e Vanity Fair ha lanciato una campagna meravigliosa quindi saluto il direttore Simone Marchetti perché è veramente una persona meravigliosa detto questo cambiarsi anche a casa e non stare in pigiama e io ho dato ho cercato di dare queste pillole alle donne che dovete stare in forma ma per voi stessi per il compagno perché questo momento di quarantena dipendentemente dalle situazioni capisco che non è per tutti uguale io ho figli grandi che stanno già fuori e in questo momento io sto vivendo una seconda luna di miele cioè siamo sempre a casa e quindi stiamo bene ci prepariamo dei bei pranzetti delle belle scenette ci godiamo quel momento di aperitivo tet a tet cioè fate passare la gioia attraverso tutti i pori della vostra pelle che sia col trucco che sia con l'accessorio col vestito c'è l'idea appunto di avere di trasmettere positività questo vuole essere sicuramente che non prendersi il tocco sul serio ma divertirsi alleggerirsi perché la vita è fatta di tanti problemi Valeria lo sappiamo e ne stiamo vivendo in questo periodo quindi vuole essere un come dire una leggerezza no un divertissimo come dire l'idea di volere prendersi un po' così e tu sei meraviglioso sei meraviglioso cioè al di là proprio della tua creatività perché poi dico sempre che i creativi no alcuni in particolare in ogni arte che sia lo styling che sia la fotografia che sia il make up che sia appunto la parte di hairdresser oppure appunto le creazioni invece artigianali da quelli che sono creazioni come le tue e agli abiti il personaggio il viso già ti dice tantissimo io infatti quando ho visto le tue creazioni prima ho visto le creazioni poi ho visto te ho detto madonna ma lui ha un quadro di Rembrandt cioè proprio rosso carminio cioè proprio bellissimo ma bellissimo proprio nel senso che comunque in mezzo alle tue cose sei un tutt'uno cioè c'è una fase in cui non c'è uno scollamento c'è un proseguo degli occhi che guarda te e guarda quello che tu fai che succede anche a me ovviamente sì è vero perché ovviamente chi vede te quando io ti ho visto insomma a Roma ero distante ma ti vedevo in lontananza quando truccavi hai un'energia cioè hai carisma quindi effettivamente facevi venire voglia a me di venire lì e farmi truccare cioè questo è il senso cioè quantomeno di sentiamo cosa da dire questo è il senso cioè infatti Massimo vedi scrive spero di poter scattare presto con queste creazioni volentieri Massimo sicuramente quando usciamo dal covid becchiamo rosso e ci facciamo un servizio a metà strada e ci troviamo a Roma volentieri così ci facciamo una chiacchierata e siamo tutti insieme una di tante creazioni cioè credi ce ne sono talmente tante cioè vedi volevo un po' di primavera a casa bravo bravo tesoro ti voglio bene e siccome lo vedi un'ora è già volata è passata è passata veloce io cosa ti avevo detto passerà come una chiacchierata tramite come se fossimo al telefono andiamo a rifarne un'altra con altre creazioni e la rifaremo sui cominci a fare altre cose che tanto a maggio appena c'è il tripudio della primavera magari anche con la libertà di poter fare anche qualche cosa fuori in esterno lo facciamo anche in esterno il nostro prossimo collegamento io ci sto io ci sto e con questo ovviamente ahimè ti saluto perché il tempo è già andato ti aspetto per il prossimo ti voglio bene stai bene continua a fare per noi queste cose meravigliose che ci rendi felici grazie grazie a tutti voi grazie Valeria un abbraccio grazie a te Rosso ciao e allora ragazzi che dirvi io ve l'avevo detto che oggi sarebbe stato un momento molto molto particolare io poi il personaggio lo conoscete ciao mia sarà un piacere conoscerci grazie di essere di essere stata qui un'ora vola velocemente io ringrazio di nuovo Rosso Carminio Creazioni per queste meravigliose creature le faccio rivedere perché sono veramente splendide e poi ringrazio Anastasia con il suo brand Urban Kimono Official perché ragazzi anche lei è un'altra italiana che merita di avere un successo nazionale internazionale perché l'Italia ricordatevi non può morire non ce la fanno give love first ragazzi vi abbraccio e ci vediamo domani ricordatevi appuntamento domani con Andy Blue Vertigo vi dice qualcosa domani make up e musica ciao ragazzi ci vediamo domani ciao